Io veramente, una parola solo per ringraziare tutte le famiglie che sono qua, chiaramente il primis, tutti quelli che sono andati a prendere queste meravigliose persone e poi le famiglie, grazie di cuore, siete un tesoro per Bustarsizio, state facendo una cosa meravigliosa. Il comune c'è, l'amministrazione c'è, qualsiasi cosa avete bisogno, chiamateci, avete una situazione meravigliosa che è l'Auba, ma chiamate pure anche noi, chiamate pure anche noi, facciamo di tutto come venite, facciamo anche le cose, no a parte gli scherzi, veramente per voi facciamo di tutto perché lo meritate, quindi grazie, grazie e benvenuti, cerchiamo di dargli un pizzico di serenità che se la meritano proprio, dobbiamo fargli dimenticare per quanto è possibile cosa hanno passato e speriamo che più in fretta possibile possano tornare nella loro terra liberi, grazie a tutti. Questa notte ho letto una frase che desidero condividere con voi, non vi fu mai una guerra buona buona, o una pace cattiva. auguri a tutti papà, parola singa. grazie a tutti. Grazie a tutti.